buon poveriggio siamo sempre al roma ai fidelity oggi è sabato 27 novembre e sono in compagnia di davide bastianelli che il co owner deus ex marina di audio living design che è un'azienda molto particolare perché non è solo anzi buonasera ormai ormai quasi buonasera sono le sei e mezza è un'azienda particolare perché vi occupate non solo di distribuzione in questo caso siete qui come distributori ma anche come produttori per esempio di alcuni prodotti che discuteremo tra poco e poi avete dei marchi distribuite dei marchi a noi molto cari ad iniziare ad esempio da tad che molti conoscono pensa che tad è l'articolo su avi magazine pubblicato ormai tempo anni fa delle r1 delle gloriosi r1 è uno degli articoli più letti in assoluto sulla nostra rivista un articolo con le misure di giampiero matalazzo tra le altre cose mi fa molto piacere questo e tad è un marchio che amiamo certo e lo distribuiamo già da diversi anni e anche il giro già in altri anni non solo in nei fideli per esempio mi ricordo anche a rimini certo più volte impianto completo tad siamo riusciti a portare in italia il brand ambassador della tad frank luvenvart poi sono venuti anche diversi giapponesi gli ingegneri i manager della tad quindi insomma avete comunque anche componenti tad qui nella vostra in questa sala suona sta suonando il cd di mille mk2 della tad fantastico riferimento è un oggetto è un cd che noi utilizziamo sempre perché andiamo sul sicuro e è veramente una macchina fantastica tra l'altro tra l'altro diffusori altoparlanti ma è anche elettroniche molto certo tad produce apparecchiature di altissimo livello insomma voi le conoscete adesso non sono non sto a ripetere però comunque ci sarà modo di parlare tad perché tra poco insomma arriverà sì voglio esatto voglio preannunciare queste novità che arriveranno per l'anno prossimo e si parla di adesso non sto a dire che cosa però sia diffusori sia elettroniche e ci saranno diverse novità diverse novità che speriamo di presentare al più presto anche in italia per l'anno nuovo 2022 invece qui a roma il focus è su un diffusore importante molto bello che invece producete direttamente certo il marchio albedo il marchio albedo che esiste da lo presento un attimo con due parole alcuni tanti lo conoscono alcuni magari non lo conoscono è il marchio che un marchio italiano e che esiste da più di vent'anni in l'italia e dall'idea progetto di massimo costa uno dei progettisti di diffusore in italia più conosciuti e più stimati diciamo del settore e da qualche anno insieme alla sua collaborazione progettazione poi la produzione vera e propria e da noi a pesaro e abbiamo sviluppato anche modelli nuovi lavoriamo bene con l'estero e l'italia la vogliamo vogliamo far conoscere maggiormente il marchio albedo in questo è il motivo per cui presentiamo il modello albedo a clara diamond questo è il modello che suona è un modello che vediamo le immagini in questo momento certo un sistema di alto parla importante dimensioni generose certamente caratterizzato lo dico soggettivamente da una scena pazzesca da una ricostruzione della scena pazzesca che voi avete ascoltato che abbiamo ascoltato in anteprima ieri sera perché ripeto noi siamo la sera abbiamo fatto un piccolo backstage tra le varie salette speravamo di cogliere anche voi mentre ancora installavate il set up invece era praticamente tutto pronto quindi ci siamo goduti un ascolto di un paio di brani veramente molto molto bello abbiamo fatto quelli seri quelli che volevano fare le cose per bene e speriamo di esserci riusciti perché in allora in tanta esperienza estera con le fiere all'estero ma anche in italia abbiamo sempre ci siamo resi conto di quanto sia importante il set up come dicono all'estero cioè la messa a punto sistemare bene l'impianto seguire un po i dettagli particolari noi riteniamo di aver fatto e di fare un buon lavoro e questo richiede tempo richiede tempo quindi arriviamo sempre un giorno prima i nostri partner un giorno prima del giorno un giorno prima del giorno prima quindi due giorni prima e i nostri partner colleghi amici gruppi di ascolto perché poi non siamo solo noi dell'audio living design ma se abbiamo anche colleghi che partecipano a questo setup che a volte richiede tanto 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 tempo posizionamento valutazione della sala d'ascolto cablaggio cavi alimentazione fase fase dell'alimentazione fase degli apparecchi fase insomma tutte queste cose io lo sto a ripetere e lo descrivo per gli appassionati principalmente poi ci sono gli addetti ai lavori che sanno benissimo di cosa parliamo tutto per presentare però alla fine un impianto perché il fine ultimo nostro è quello non di complicare la vita ma di avere un ascolto un suono un amore ascoltare musica in maniera semplice emozionante e qualsiasi tipo di musica quindi non dobbiamo complicare la vita ai nostri appassionati a chi si avvicina adesso alla l'alta fedeltà in questo momento ma renderla semplice quindi sedersi ascoltare musica questa è una cosa molto importante anche nel nome audio living design noi un nome inglese però cerchiamo di dare questo messaggio cioè è una musica da vivere è una musica da vivere tutti i giorni il nostro progetto è quello cioè un progetto che faccia consenta di vivere la musica tutti i giorni tradotto in inglese questa frase l'abbiamo scelta in audio living design questo è un concetto che ci portiamo da quando abbiamo cominciato cioè l'idea di ascoltare musica e con piacere che a volte non è così e non avviene così perché o comunque qualche appassionato inciampa in esperienze difficoltose complicate ma noi non sono all'altezza ma io non conosco io non me ne intendo ecco questa è la cosa più brutta per uno che si avvicina in questo settore perché uno si presenta così non me ne intendo non ci capisco non lo so prende gira i tacchi e se ne va questo vale per gli uomini vale per i ragazzi vale per le signore e quindi questo è quello che noi cerchiamo noi stiamo facendo un lavoro un progetto per far sì che questo non avvenga cioè che uno un appassionato ma neanche appassionato un qualunque persona o individuo che si avvicina alla musica ha il diritto di ascoltarla di qualità e semplice semplicemente senza complicarsi la vita con tante altre cose cavi questo componente quel componente eccetera quindi cerchiamo di fare questo ecco comunque al di là della semplicità c'è la qualità sicuramente soluzioni tecniche molto particolari perché c'è diffusore diffusore tutti sono proprio a dire il nostro diffusore di qualità però ripeto come abbiamo già ascoltato e come ascolteremo anche domani perché ci sarà ci saranno con noi in un ascolto magari un po più approfondito in cui vi chiederemo di mettere dei nostri nostri cioè selezionati ci sarà giampiero materazzo marco giovane faremo un ascolto degli diffusori che sono tra i più quelli che sono piaciuti di più in questo romano i fidelity non nascondiamo e con diffusore con soluzioni tecniche particolari parlo per esempio dei dei driver del montaggio basso del del twitter in diamante se non sbaglio quindi certo al di là della filosofia c'è proprio della sostanza beh certo se parliamo nel dettaglio di questo componente qui di questo di questa coppia di diffusori questo modello certo dietro c'è un sistema per arrivare alla semplicità a volte bisogna percorrere delle strade complesse il diffusore è particolare una linea di trasmissione doppia linea di trasmissione simmetrica dal punto di vista tecnico e poi magari di inserire il dettaglio più avanti sicuramente abbiamo certo abbiamo contenuti sul diffusore che merita la nostra attenzione anche degli ascolti però volevo chiederti anche un bilancio di questa prima giornata perché sono le sei e mezza si sta per il computer questa prima giornata e mi sono affacciato un paio di volte ho visto persone accalcate dietro al vetro che c'è questo vetro bellissimo che fa vedere all'interno cosa succede che abbiamo pulito personalmente dentro e fuori per allora però com'è andata perché è andata a milano cos'è successo che insomma ci sono stati anche dei piccoli disagi persone per ore in fila qui magari con un po più di organizzazione con un po più di comunicazione ora la gente si è più distribuita ho visto durante la giornata non ci sono state l'esteresse questi assalti alla lava bianca che abbiamo visto a milano quindi come è andata dal tuo punto di vista allora la fiera è andata molto bene e siamo molto contenti questo significa che è venuta tanta gente ovviamente con i dovuti controlli noi avevamo una decina di persone da poter far entrare nella nostra sala perché comunque era di grandi dimensioni e allora da una parte la gente c'è stata c'è stata tanta gente interessata e questo fa molto piacere perché proprio l'alta fedeltà è una passione un settore che sorprende sempre quando si dice che poi sembra incalare che poi sembra finita ma no ma no ma no e poi via ritorna un'altra un'altra un'è un nuova era che magari nasce o rinasce rinasce il vinile c'è sempre una scusa per riascoltare l'alta fedeltà la cuffia il vinile il digitale lo streamer e queste sono tutte cose belle perché alla fine il pezzo poi la musica è sempre quella nel senso che che sia i beatles o che sia l'ultimo di ariana grande dico ariana grande perché mia figlia appassionata di ariana grande lei ha 13 anni e quindi sempre musica è e quindi bisogna ascoltarla in tutti i modi possibile farla arrivare al pubblico e noi abbiamo cercato oggi per tornare alla giornata di oggi di gestire una sala in maniera rigorosa tenendo dieci minuti a spiegare che cosa ascoltavamo che cosa andavamo ad ascoltare dieci minuti di ascolto vero e proprio quindi con tre quattro brani vari cd vinile e gli altri dieci minuti per fare un un debriefing un così per rispondere alle domande alle richieste alle spiegazioni e devo dire che come a volte capita nel male poi è nato qualcosa di buono nel senso che questo rigore per il limite di ingresso il rigore nel limite di dei tempi di gestire le persone poi è nato un ascolto veramente bello veramente approfondito le persone erano molto contente cosa che in questi ultimi vent'anni invece ci siamo sempre rincorsi in vortici interni alla sala persone che correvano passavano parlavano tutto meno che ascoltare che da una parte bello ma anche dall'altra io il martedì finita la fiera mi chiamavano i clienti però non si poteva ascoltare niente però tanta gente troppa ressa non si respirava insomma diciamo che dal male di questa pandemia è nato qualcosa di buono cioè un controllo e un la possibilità di ascoltare in maniera più serena in maniera più precisa in dieci dentro una sala ed è questo e ha funzionato bene siamo stati un po cattivelli nel tenere le persone fuori però dopo un quarto d'ora poi un venti minuti si potevano riaccomodare quindi tutti devo dire che erano molto responsabili e consapevoli della situazione soprattutto c'ero anch'io e ho visto gente che ha apprezzato poi una volta c'è l'attesa certo è stata ripagata ampiamente dalla qualità della dimostrazione mi fa piacere che tu abbia riscontrato questo speriamo che poi porti dei risultati dei risultati che ha già portati degli apprezzamenti futuri ecco quindi appuntamento ci vediamo domattina in cui vedremo a fare molto volentieri prima possibile con giampiero e con marco cicogna e ti ringrazio per il tuo tempo per questa intervista grazie a voi grazie a voi grazie a voi è sempre un piacere bello quello che fate per noi gli addetti ai lavori e soprattutto per gli appassionati dell'alta fedeltà grazie davide ancora ciao ciao e buona serata grazie 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 grazie